Compie 60 anni l'azienda Maiullari, un'eccellenza made in Puglia nella progettazione e realizzazione di interni. Nello showroom si è tenuto l'incontro a tema design, sostenibilità e tecnologie, un appuntamento riservato a professionisti, architetti e arredatori, coorganizzato con l'Ordine degli Architetti della provincia di Bari. Cuore dell'evento, l'alexio intitolata La casa sull'albero, dell'architetto di fama internazionale Stefano Boeri, artefice del progetto del Bosco Verticale, che sarà realizzato anche a Bari. Boeri si è soffermato sullo sviluppo urbano sostenibile, sull'alleanza fra città e natura. Credo che trasformare sempre più le nostre case in piccole centrali che producono l'energia pulita, attraverso l'energia pulita e il microeolico, questi siano i grandi pilastri di una città che diventa sostenibile. Come incrementare le biodiversità nella progettazione degli spazi? Io credo che aumentare le superfici vegetali, cioè la presenza di piante, abusti, alberi, di varie specie attorno ai nostri edifici, sulle facciate, sui tetti, sulle terrazze, sia un elemento importante oggi per implementare la biodiversità, non solo delle specie vegetali ma anche delle specie volatili. L'azienda Maiullari, nata negli anni 60 da un laboratorio artigiano di Altamura, è l'evoluzione di un progetto a conduzione familiare, divenuto nel 2023, una realtà imprenditoriale presente in Australia e a Zurigo, con i suoi showroom e attiva con i suoi rivenditori in Europa e negli Stati Uniti. Siamo stati sempre lungimiranti, quindi abbiamo sempre visto avanti e si può dire che i nostri prodotti sono sempre stati innovativi. Forse è anche questo un po' il segreto che ci distingue dagli altri. Avere passione per quello che si fa, attenzione per il cliente e seguire le orme dei nostri genitori che ci hanno trasmesso dei valori che portiamo avanti. Grazie.